Vorrei ringraziare innanzitutto l'equipe medico-infermieristica per l'assistenza che è stata data al piccolo Achille, che è nato l'8 dicembre con una grave prematurità e oggi viene dimesso e ringrazio soprattutto per il lavoro che è stato svolto con grande impegno da parte di tutta l'equipe. Noi facciamo nel nostro reparto una bandiera per il supporto alla genitorialità e quindi abbiamo cercato di sostenere i genitori del piccolo Achille durante tutto il ricovero che è stato lungo, come potete immaginare, nascere di 640 grammi a 23 settimane è qualcosa che è molto impegnativo per l'equipe e anche per i genitori stessi che sanno che hanno davanti un lungo percorso, che può anche avere degli alti e bassi, ma devono anche mantenere sempre una fiducia nei medici da cui sono assistiti e perché spesso le cose, come è il caso di Achille, poi possono andare nel verso giusto e quindi noi siamo particolarmente felici quando abbiamo la possibilità di dimettere dei bambini sani arrivati al termine di gravidanza con un peso adeguato e vorrei ringraziare anche i genitori per tutta la pazienza che hanno avuto nei nostri confronti e per sempre il rapporto di grande collaborazione che hanno avuto con noi che ci ha permesso, ci ha incoraggiato durante l'assistenza al piccolo e quindi ci ha permesso di fare il meglio per lui e per loro anche per i genitori. Naturalmente nascere con un peso estremo, ad un'età gestazionale estrema come quella di Achille è spesso una situazione che può presentare tanti problemi, tante incognite perché c'è una estrema fragilità di questi piccoli su molti organi essenziali per la sopravvivenza come per esempio il polmone, l'apparato cardiocircolatorio, quindi si devono affrontare, si sa che potrebbero affrontarsi anche delle complicazioni che i medici devono saper gestire e nel caso specifico Achille ha avuto necessità di un supporto respiratorio per circa i primi dieci giorni dopo la nascita, un supporto respiratorio invasivo, poi con grande impegno da parte dell'equipe medica ha potuto uscire dalla ventilazione meccanica e lì comunque c'è una serie di problemi legati per esempio all'alimentazione e comunque ai eventi respiratori che possono comunque verificarsi in un piccolino così che possono dare delle potenziali complicazioni che noi cerchiamo comunque sempre di affrontare e di risolvere nel modo migliore. Sicuramente è stata appunto una sorpresa, è stato inaspettato, la gravidanza stava procedendo tutto bene, poi all'improvviso sono partite le contrazioni e siamo andati prima a Sassuolo all'ospedale più vicino, da lì mi hanno visitato, hanno visto che ero dilatata e quindi mi hanno mandato subito con urgenza qui a Modena in ambulanza e quindi abbiamo aspettato due giorni a vedere un attimo se la situazione poteva attendere ma così non è stato e l'8 dicembre appunto Achille è nato e alle 17.47 la sera è poi stato portato qui il reparto subito, io ho dovuto attendere 5 giorni prima di vederlo perché avevo un'infezione e poi sono salita e ci siamo affidati all'equip, a tutta l'equip. Io ammetto ho avuto tanta tanta paura, ho visto tutto questo percorso con estrema paura ma sono stata molto fortunata perché oltre a avere dei medici, dell'infermiere, un'equip appunto professionale pronta sono stati tanto umani e per noi è stata una famiglia, siamo stati qua quasi 4 mesi e è stata appunto una una famiglia, questo posto, una casa. Infatti andare a casa per noi adesso è lasciare un pezzo di cuore però saremo eternamente grati a tutti perché il lavoro che fanno è speciale, sono degli angeli, hanno aiutato Achille e se Achille è qua è grazie a tutta l'equip di Modena che io ringrazio di cuore perché da parte anche del papà è stato fondamentale quindi adesso ripartirà un nuovo capitolo della nostra vita. Il Policlinico offre appunto la neonatologia, offre la possibilità ai genitori che non vogliono rientrare a casa, le mamme ecco il principal modo di dormire qua, ci sono un paio di istanze ma noi abbiamo scelto di rientrare a casa nonostante appunto la difficoltà di staccarsi dal bimbo ma perché è giusto anche che la mamma e il papà abbiano come ce lo ricordavano spesso anche i dottori e le infermiere abbiano il proprio spazio per poter tornare durante la giornata e esserci in modo qualitativo. Quindi io consigli, non me la sento di dare perché ognuno deve vivere giustamente il proprio percorso, il proprio dolore, la propria paura a suo modo ma l'unico consiglio è quello davvero di fidarsi totalmente e affidarsi totalmente a queste persone speciali, a questi angeli perché l'unica possibilità è aggrapparsi probabilmente anche un po' alla speranza perché comunque questi bimbi sono forti e ci mettono tutto il loro impegno per farcela.